Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo ad aprire insieme Yu Yu Light Kitts Rainbow Ne ho due E poi un mini mini bag Le andiamo ad aprire tutti nello stesso video Perché posso capire pochissimo Quindi, allora, come ho le due riviste Questa è dei gattini E questa è dei mini mini bag Ci sono tantissime curiosità Ok, allora li mettiamo da parte Ah, è E questi qui Sono costati Tra le 50 E questi qui Sono costati Sono costati 6,99 Non ne avevo visto perché era Questi qui sono della sbavanza E questi qui sono Nell'officino Ok, allora Andremo ad aprire lo zainetto E poi andremo ad aprire i gattini Allora Se ce la faccio Ok, allora Questi qua L'ho zainetto Molto bello Wow Questi qua sono gli stickers Poi abbiamo una mini matita Guarda quanto è strana Una matita Poi abbiamo Una mini gomma È minuscola E poi abbiamo Questi qua Che sarebbero I elastici Che sono a unicorno Poi abbiamo questo post-it a forma di cuore Bello E poi abbiamo Lo scotch Che è questo qui Molto È glitterato Però è molto bello Ah, e sono uguale Al quello delle mie unghie Cioè, guardate Uguale Ah, quando ho capito Queste cose Funzionano veramente Quindi questa qui cancella E così qui Sono dei veri stickers E quindi questa qui Dovebbe Scrivere Esatto E quindi Guardate che carina Ok, allora Allora Ora mettiamo Tutto all'interno Prende la scuola Allora Ok Mettiamolo tutto così Chiudiamo E andiamo a scuola Ok Allora Tu Vabbè Tu rimane qui E andiamo ad aprire Questi qui Guarda Come ne ho aprire questo? Cioè, ok Questa c'è L'apertura Ah, adesso Ora entro Una Calma Wow Un'altra sorpresa Noo Guarda che carina Ehi Festa Eh Wow Guarda però Dentro Non so se lo vedete Bene a tutti Tipo queste cose Ok Ah ma che carina Non so come si chiama Allora Ah ok Lei si chiama Tic E' questa Però è molto bella E qui C'è Qua c'è la sua storia E qua Quando è nata Qua Sono andata a settembre La mia migliore amica È Cholina Cholina Lei Allora Va bene Molto carina Lei Già iniziamo La perfezione Perché è molto carina Ok Allora Ok La pesta Perfetto Ok Ora Andiamo ad aprire La pesta Dove Faccio la checklist No No Ragazzi ho trovato Quell'arcobaleno Non ci voglio credere Come si chiama Non mi ricordo Come si chiama Non mi ricordo Ok Allora Ragazzi ho trovato Quell'arcobaleno Ah si chiama Iridino Sono nata ad agosto E il mio migliore amico È Saranello Questo qui Che carino C'è ragazzi Abbiamo trovato Questo C'è Dai Lui è pelosino Guarda Pelosino Pelosino Quindi abbiamo trovato Tic E Iridino Ok Abbiamo trovato Questo cattino Che si chiama Tic Guardate che c'è Ed è femmina Poi Abbiamo trovato Questo cattino Che si chiama Iridino E poi Questo zainetto Molto carino Che userò Molte volte E va bene Se vi è piaciuto Questo video Lasciate tantissimi Like Iscrivetevi Qualcana Per non perdere I miei video Attivate la campanellina Per non perdere Nel suo video Che caricherò E commentate Su Instagram Mi chiamo così O sulla community Quale Mi è piaciuto di più Tra questi Allora Come Come se Mi è piaciuto Di più Gli stickers Lo scotch E qua Invece Fra questi due Questo Perché credo Che sia raro Però non c'è scritto Però bellissimo Che bello E saluto A Elena E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 a tutti